Ok come on 6 finalisti Grande livello di gara I giudici hanno avuto Porto da fare qui Questa categoria Premia una persona molto importante Una persona molto storica Pensate ha vinto Il suo primo messo di verso nel 1966 Ci sarebbe tante altre cose È un personaggio Attualmente penso sia quello più Uno fra i più importanti Sono tutti importanti Però è uno fra i più importanti Magari sono un po' più orgoglioso Perché dentro di lui è anche italiano John Cedrone Here to present the medals Is the most medaled athlete in the history of Nava Who won his first title in 1966 Before I was born Ok In 6th place From Brazil Marcello Rios No. 65 In 5th place Marcello 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 No. 114 Matthew Sneedon From the UK From the UK 5th place Congratulations 4th place From Wales No. 57 Darren Poole In 3rd place In 3rd place In 3rd place Men Men class 4 World Championship Nava 2013 From France No. 92 Giubon And the winner 2013 From Iran Ali Moparahi Congratulations Congratulations Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!